Allora, nome particolare, perché immagino che si siano creati un sacco di equivoci, Nicola Savino, giusto? Tra l'altro ho un blog che si chiama nicolasavino.com, lui è nicolasavino.it, quindi cambia pochissimo, poi la mele è uguale, info ghiocciola, e a me arrivano cose assurde. La cosa più bella è stata due gemelle nude che dicono fammi lavorare a radio DJ pur di fare qualsiasi cosa. Tu immagina quando gli hai inoltrato la mele lui mi ha risposto, ha detto sei stato un po' fesso perché dovevi dire che eri mio parente e quindi puoi andare a radio DJ. Quando vado in albergo, ogni volta che sono, sono Nicola Savino, mi dico che peccato, pensavo fosse quello famoso, se vuole vado via. E' così? E' così, ma continua. I preti che mi scrivono, Gianni Rivera, che mi scrive una mail personale e che mi chiede se può presentare il libro, la sua autobiografia, in radio. Ok, quindi tu conosci un po' i segreti dietro le quinte? Hai due che mi tagga perché poi abbiamo Twitter uguale, cambia una lettera, si, si. Non ti credo. A un certo punto ho pensato di cambiare nome, però poi è rimasto così. Affezionato al personaggio? Si, assolutamente sì. Nicola, allora, oggi siamo con tanti ragazzi 130 provenienti da tutta Italia all'interno di questo splendido resort qui a Perstum per parlare naturalmente di quelle che sono le problematiche legate ai giovani. Uno degli argomenti che viene trattato è anche l'innovazione, la tecnologia, le start-up. Tu sei un esempio proprio assurdo da questo punto di vista perché prima mi raccontavi un pochino quella che è stata la tua storia e mi piacerebbe che tu cissi a raccontarla anche alle persone che ci seguono. Certo, perché più che altro può essere per i giovani un punto anche di partenza nel senso che è vero che il contesto italiano non ci aiuta quindi siamo un po' purtroppo in un paese che fatica rispetto agli altri paesi europei però di fatto stiamo pian piano salendo sempre di più. È vero anche che l'ultima relazione desi sul digitale per esempio ci porta un po' in basso però non è detto che non si possano fare delle cose perché la sensazione che si dà ai giovani è che non devono avere questo spirito imprenditoriale invece non è così perché dovrebbe essere tutto il contrario. Leggevo per esempio un articolo su Sole24ore che diceva che i giovani di oggi vogliono fare impresa ma hanno quel timore di non riuscirci, quindi quella fatica necessaria. Faccio un esempio pratico, io faccio l'università alla Federico II in ingegneria informatica mentre ero l'assistente del professore Maresca che tuttora è ovviamente professore di catture all'università mi invento un sistema per far fare i sviluppatori programmi quindi tecnologia Eclipse che è un programma IBM direttamente in cloud quindi è una cosa che non esisteva prima. Puoi immaginare come l'innovazione in questo caso è stata comunque la partenza di tutto il mio percorso poi di imprenditore perché poi da lì sono stato assunto da IBM a contratto a tempo indeterminato tu considera che comunque un ragazzo che esce dall'università di solito fa quei contratti un po' così invece io vengo assunto direttamente in questo modo ma lo spirito di fare impresa era più forte quindi dopo un anno io mi ricordo una mattina di martedì torno a casa mia mamma giustamente dice mamma scusa come mai sono uscito prima no mamma ti devo dire una verità io mi sono licenziato di IBM ti giuro che è svenuta lì la tragedia giustamente no no 118 sì 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 118 118 reale reale perché giustamente tu immagina no un figlio che si licenzia signora solidarietà che poi ovviamente col senno del poi io voglio dire è andata meglio però questo perché perché non abbiate paura di affrontare quello che è un nostro desiderio perché dopo che è successo dopo che ti sei licenziato ecco ho creato una ditta individuale mi ricordo già nel 2009 primo gennaio vado alla camera di commercio e parlo vicino alla signora guarda io voglio fare queste tematiche digitalizzazione dei processi aziendali conservazione digitale dematerializzazione digitalizzazione fatturazione elettronica che per esempio è un argomento che si è introdotto terzo la signora mi guarda un po' così non so di cosa stai parlando ma auguri diciamo ti faccio in bocca al lupo passando degli anni con dei sacrifici perché quello che è importante è che nel momento in cui decidi di fare impresa devi capire che non basta soltanto un'idea che può essere anche innovativa serve un percorso di formazione interna quindi quando ieri sentivo appunto il comune quando avete fatto un intervento sulla crescita quindi paragonate un po' all'innovazione che si può avere ma c'è bisogno di una formazione a crescita personale per il 2009 piano piano oggi ho un'azienda di 15 persone abbiamo due sedi una a Salerno e una a Milano perché poi ovviamente mi devi anche internazionalizzare quindi stiamo puntando in Europa e anche in America esatto sicuramente sì però non allontanandosi dal territorio perché io potevo scegliere di dire ok vado a vivere direttamente a Milano invece no ho detto stiamo qui giù perché facciamo vedere che si può fare impresa su argomenti innovativi e è chiaro che poi ho anche una sede a Milano ma comunque si può fare impresa nel sud assolutamente e la sensazione è che anche se il contesto perché poi immagino un ragazzo che accende il telegiornale dice questo è un problema ma quest'altra cosa è un problema in realtà poi se noi riusciamo a trovare delle soluzioni a quei problemi quindi parlando anche di innovazione perché è chiaro che dobbiamo inventarci dei servizi innovativi non possiamo pensare di fare delle cose che sono già state fatte da altri quindi questo è il senso anche poi di start up però poi bisogna crescere come impresa personalmente anche fare tanti sacrifici io non so quanto sudore ho buttato ti dico anche una cosa molto reale all'inizio del 2009 mi ricordo non riuscivo a pagare per esempio l'impose che era una cosa che comunque una tasse eccetera e in tutti questo ti volevo chiedere cioè ci sono stati dei momenti proprio in cui ti sei demoralizzato assolutamente forse ho fatto assolutamente sì molti giorni in cui dicevo forse ho sbagliato avevo il posto mio tranquillo in IBM chi me l'ha fatto fare ci arrivi a pensare però sei tu che internamente quella vocina interna che poi ti dice guarda che ce la puoi fare perché nulla teoricamente è impossibile è chiaro che poi che poi c'è anche la famiglia attorno mia moglie per esempio che è stata molto di supporto in questo senso gar power assolutamente sì le donne hanno una maggiore forza su queste cose qui quindi anche se a un certo punto c'è stata questa sensazione di abbandono in realtà poi il riscatto è stato più forte perché la crescita di andare sempre più su ovviamente di rimane dentro Sin Solution Sin Solution esatto si chiama così? assolutamente perché l'idea era we have sin the solution quindi noi abbiamo visto una soluzione e quindi è rimasto poi quella cronoma che diciamo mi è caro perché poi alla fine puntiamo appunto all'internazionalizzazione quindi avere anche un nome inglese ci dà importanza poi quando viene fuori presa o fuori intanto internazionalizzazione parola difficilissima infatti mi stavo preoccupando business ma soprattutto territorio assolutamente sì risorse sul territorio ce ne sono? ragazzi in gamba ce ne sono? assolutamente assolutamente la cosa più bella è che spesso si trovano delle risorse noi in azienda abbiamo tutte persone del territorio e sono ragazzi che non si rendevano conto di avere delle qualità enormi delle potenzialità enormi il problema è indirizzare quelle potenzialità no? ok per questo motivo noi per esempio come azienda abbiamo partecipato all'alternanza scuola lavoro sì per dire ai ragazzi guardate che quello che voi pensate sia inutile o quello che voi pensate di non avere in realtà si è indirizzato di una certa misura in un certo modo può avere molto valore per qualsiasi azienda qualsiasi eh io questa domanda a una donna non la farei mai però per l'esperienza che hai avuto per come stai parlando per le cose che ci stai dicendo ma quanti anni hai? 34 a maggio quindi adesso proprio 34 anni le cose quindi si possono fare assolutamente allora una parola per indicare i giovani del territorio allora io voglio dire crederci perché credo che c'è bisogno di sentire dentro quella volontà di poter fare della propria idea un'impresa anche se attorno il contesto ritorno a dire questo perché purtroppo oggi tutte quelle che sono i canali di informazione non fanno sentire un ragazzo la possibilità di crescere e quindi gli fa diminuire quella forza di crederci io uso questa parola qua perché secondo me è importante crederci ok grande piaciuta? molto questo è il fuori onda ah questo giusto è sempre il fuori onda assolutamente grazie mille grazie a voi grazie a tutti